Eccellenza, il discorso della città tocca a noi tutti insieme per dire che la Chiesa non si tira indietro, vuole fare alleanze con visione, condivisione, decisione. Questo momento ci obbliga a capire che da soli non si va da nessuna parte, lei cita anche Papa Francesco. Non si va da nessuna parte, a me preme dire che invece abbiamo una terra promessa verso cui andare, perché la nostra lentezza, la nostra confusione, credo dipenda non solo dalla fatica a intenderci, ma anche dalla rinuncia alla speranza. Ecco quello che vorrei dire. Noi abbiamo invece motivi di speranza, perciò tocca a noi, tocca a noi tutti insieme. Milano e anche altre zone si preparano a una tornata elettorale nei prossimi mesi. Lei lo ricorda e dice che occorre costruire una società plurale. Dobbiamo scegliere se rimanere vittime della globalizzazione delle paure o essere protagonisti dell'edificazione appunto di una società plurale. Questo è il suo messaggio per chi opera nella politica e nella cosa pubblica? Sì, riguarda la politica, ma riguarda tutti coloro che hanno responsabilità nella vita di questo tempo. la politica ha la responsabilità di una visione del mondo, della città, della convivenza, ma anche la scuola, anche la chiesa, anche l'economia. Ecco, tutti abbiamo questa responsabilità a essere protagonisti della nostra storia o a decidere di essere rinunciatari. Cellula fondamentale della società è e rimane la famiglia. Mai come adesso, in questi mesi, si è rivelata tale. Crede che siano povere le politiche per sostenere la famiglia, che si possa fare tanto di più? Io credo che abbiamo un'occasione per decidere come insistere perché la famiglia sia il centro del progetto di convivenza che abbiamo. Quindi a me pare che le enormi risorse di cui si parla devono essere destinate in una direzione. E io insisto che quello che si deve sostenere, quello che permette poi anche di sostenere la natalità, di sostenere l'occupazione, di sostenere il desiderio di futuro, ecco, questo è la famiglia, perciò la centralità della famiglia vuol dire anche un criterio con cui destinare le risorse, con cui organizzare la convivenza, con cui costruire le case, costruire la città. Un'ultima domanda. Lei tesse l'elogio di tutti coloro che scrive stanno al loro posto e cercano di far funzionare scuole, ospedali, negozi, la società. Ecco, è un modo per dire siamo accanto a voi come Chiesa di Milano e abbiamo tutti insieme speranza. Sì, è un modo per dire la mia ammirazione. La Chiesa non sta a guardare chi è rimasto al suo posto. la Chiesa è rimasta al suo posto. Tanti cristiani sono insieme con gli altri lì a far funzionare la città come l'immagine che ho usato. E quindi io voglio dire grazie, io voglio dire che abbiamo molte energie ancora da impegnare, io voglio dire che possiamo essere fieri di noi stessi e voglio dire che abbiamo delle buone ragioni per fidarci di Dio.